L'Alfa Romeo, la sua storia lunga decenni, raccontata da oltre 50 modelli esposti e risalenti dal 1950 ad oggi, tutti restaurati e perfettamente funzionanti. È il Museo dell'Alfa Romeo dei Fratelli Cozzi di Legnano, che è stato il centro di una visita dalla Commissione regionale Attività Produttive, guidata dal Presidente Pietro Foroni e composta dai consiglieri Donatella Martinazzoli, Carlo Borghetti, Fabio Pizzur, Carolina Toia e Marco Tizzoni. Il Museo è una collezione frutto della passione del commendatore Pietro Cozzi e raccoglie modelli di vetture che hanno raccontato un modo di vivere e di essere e che hanno accompagnato la rinascita dell'Italia appena usciti dalla guerra e il suo boom.